bella a tutti i fourniters benvenuti e bentrovati su leon tube eccoci con il negozio oggetti di oggi 11 novembre arriva stile distintivo il bundle bruma stregata la novità di quest'oggi eccola qua bruma stregata con un doppio stile andiamo a vedere cosa possiamo fare senza corna e occhiali sembra ancora più spettrale piccone corna di bruma copertura stelle offuscate carina e dorso decorativo astroali sonore reattive e non reattive disponibile all'acquisto fino al 14 novembre poi abbiamo scendiamo abbiamo desiderabile aspen macello ranger ricognitore torna il bando lo squalo di sicurezza con il nostro squalino steve la sicurezza prima di tutto modalità in servizio oppure no occhiali di sicurezza si oppure no poi abbiamo il dorso decorativo marea crescente piccone morsi di squalo e copertura sorveglianza squali poi abbiamo ricchezza le motte e il bundle gelatine che ritorna disponibile fino a domani la nemole gelatine tropicale la copertura questi sono tutti un po vecchi per chi diciamo segue il negozio oggetti da un po arcobaleno il piccone scampo li andiamo comunque a vedere un po nel dettaglio medusa come deltaplano e poi il dorso decorativo e scusate la copertura spettro spacciato bella animata j balvin scheletro inferno torna ancora una volta j balvin reattivo o non reattivo il dorso decorativo shock e la traccia gem vigente pacchetto avatar scorriamo veloci eminem snoop dog vediamo se c'è ancora qualcosa di nuovo renzo e cuna e non renzo e lucia masamun ok passo e crudo di fortnite bundle e pacchetti speciali che abbiamo già visto nei giorni scorsi e quindi abbiamo visto già tutto nel negozio oggetti e oggi ragazzi mi raccomando mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale lasciate un commento e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao